Allora amici, eccoci sempre in maglio, aspetta un po', dunque riprendiamo l'allenamento ma adesso farò vedere un esercizio con esecuzione ai cavi, cavo basso e cavo alto per le spalle quindi alzate laterali e incrociato dal cavo basso e spalle 90 incrociato ai cavi alti adesso faremo vedere l'esecuzione, ok, voglio, prepariamo, abbiamo preparato i pesi per un po', ne aggiungo qualche pesetto, questo è un esercizio con un'alta concentrazione non è facile, 1, 10 ripetizioni alzate laterali al cavo basso ok finito le alzate laterali poi, spalle 90, questo è un'importante, molto importante esercizio con le spalle la parte alta della schiena è unita appunto alle spalle, quindi lavora in zona posteriore della cucchia rotatoria, spocchio la testa, braccia alte, forza, vai in super serie, abbiamo lavorato in 10 ripetizioni laterali continuo a scala e ne facciamo altre 5 così? sì sempre postura, portante, vai, 1 rimanimi in contrazione alla quinta, rimanimi in quinta in isometria aperto, stai 3 secondi 1 2 3 altre 5 in esaurimento, forza ok e la perfetto grande Mario, come ci stiamo trovando stamattina? male male nel senso male bene male piacevole allora, giusto? bene, abbiamo finito le spalle e dunque che dire un altro un altro gruppo muscolare oltre quello della schiena di Pocanzi un po' anche delle gambe e glutei e abbiamo lavorato appunto le spalle in super serie piccoli accenni piccoli consigli ovviamente i consigli più tecnici per consigli più tecnici potete contattarmi per la promozione che vedete nei social mi dice Maglio aspetta cosa? che non posso muovere più le spalle vero? ma che cosa è successo? non lo so allora allora per qualsiasi cosa appunto potete contattarmi al 329 41 980 77 o tramite whatsapp per esempio se supero per informazione appunto della promozione che scadrà il 19 è stata è stata spostata la fine della promozione in quanto ultimamente il sottoscritto con una banda di matti a Catania è stato è stato impegnato per un evento a Catania per cui ho posticipato la fine della promozione www.valdalberti.it il mio sito qualsiasi informazione contattatemi se siete timidi potete scrivermi e poi sarò io stesso a ricontattarvi ricordate il fitness è vita è salute non solo fisica ma mentale non venite l'ultimo mese prima dell'estate non venite solo quando avete mangiato di saquanto venite per stare bene e vi seguirò come vorrete o one to one o nel mio metodo small group e vedrete che non ve ne pentirete rimango a disposizione un bacio a tutti oggi in compagnia di me e di Marlio Peritone a voi tutti no pay no gain